Ciao amici, ciao a tutti. Parliamo un po' di perché è stato chiuso Pipocella. Era un video che volevo farvi da tempo ma ve lo faccio stasera e poi lo pubblicherò tra qualche tempo poi lo vedrete. Allora la curva di Pipocella come sapete è stata da sempre la curva più ambita, più bella e più battuta del passo del bracco. Non tanto per la bellezza della curva che comunque era una delle più belle in ogni caso, forse non la più bella ma tra le più belle. E in più, come vi ho già fatto in un video che vi ho spiegato per filo e per segno tutte le caratteristiche di quella curva lì, aveva una cosa fondamentale che le altre curve non hanno. Aveva il piazzale per parcheggiare con la possibilità di fermarsi e guardare chi faceva le curve. Io la chiamo la platea. Aveva il promontorio, potevi salire sul torrione e guardare dall'alto, c'era la casetta, c'era la fare dove sedersi. D'estate con le casette potevi sederti all'ombra piuttosto che no e questo ne faceva di sicuro una delle curve più belle e appetibili del passo del bracco. Allora, praticamente sotto Natale del 2023, quindi quasi un anno fa, la curva è stata chiusa tramite un guardrail che praticamente chiudesse tutta la curva e nessuno ci può più andare all'interno. Questo è successo dopo più di 40 anni che la gente ci va con le moto, con le macchine e quant'altro. Allora, ora vi spiego la motivazione perché è stata chiusa. Allora, nell'anno 2022 e 2023 soprattutto, sul passo del bracco, non necessariamente sempre a Pippocella, ci sono stati decine di incidenti. Un po' perché si esagerava, un po' per inesperienza, un po' per seguire, diciamo, per provare a imitare i più bravi. Un po' perché la gente ci si lamentava anche, cioè i passanti ci si lamentavano anche quando non succedeva niente. E soprattutto, soprattutto nell'anno 2023 ci sono stati veramente, veramente un sacco di interventi dell'elicottero. Adesso da sempre ci sono gli incidenti sul bracco e da sempre ci sono stati gli interventi elicotteri. Io ci ho passato tutta la mia vita su quel passo del bracco. Ma tanti interventi come nel 2023 io non l'ho mai visti. Credo che da inizio anno, quindi dai primi giorni del 2023 fino alla fine del 2023, ci devono essere stati 18 interventi elicottero. Di cui spesso e volentieri capitava che in un weekend dovesse intervenire tre volte. E quindi cosa succede? Praticamente quando arriva l'ambulanza fanno un trafiletto sul giornale, a volte, spesso nemmeno quello, e la cosa finisce lì. Quando interviene l'elicottero va il trafiletto sul giornale o addirittura la prima pagina e va anche su RAI3, sul TG Regione. E quindi fa molta notizia. Adesso cosa succede? Chiaramente per sopperire a questo fenomeno di troppi incidenti che è venuto a crearsi in quell'anno lì, chiaramente qualcuno ha dovuto metterci una pezza. Adesso non so se è stata la Regione, i comuni, tutti d'accordo con chiaramente la mentele di tutti, le multe, gli interventi, eccetera, eccetera. Alla fine per non fare chiaramente una mega retata e venire su e strappare le patenti come se fossero carta a straccia, hanno voluto secondo me provare a metterci una pezza. Adesso io lo dio con estremo dispiacere perché ci ho passato tutta la mia vita su quella curva lì e quindi sono chiaramente dispiaciuto per questa cosa qua. Però devo essere anche onesto che se non facevano qualcosa, non ci mettevano una pezza, sarebbe stato veramente una catastrofe perché le cose stavano chiaramente degenerando e avendo tolto quella curva lì chiaramente si è spostato un po' il traffico un po' da una parte all'altra, però non più come prima perché prima chiunque poteva andare lì era proprio comodo, comodità e poi era tutta un'altra cosa. Quindi chiaramente il problema l'hanno un po' segato, l'hanno un po' tagliato e quindi io devo ammettere che anche se sono molto dispiaciuto non sono contrario a questa cosa che si è fatta per non far far male alle persone, chiaramente un po' distogliere questo fenomeno da quello che era diventato. Quindi alla fine dei conti, con tutti gli incidenti che sono stati, la gente si è fatta veramente male, c'è la gente che si è fatta veramente male, veramente male. Io praticamente essendo sempre lì tutti i sabati e domenica e pomeriggio di quell'anno lì è chiaro che più o poi qualcuno ci scappava anche probabilmente molto più che dei feriti, era solo questione di tempo. Invece così facendo probabilmente sono riusciti in qualche modo a metterci una bella pezza e devo dire che alla fine hanno fatto bene. Mi dispiace dirlo, lo dico con molto dispiacere, ma alla fine è stata probabilmente la cosa giusta, anzi l'unni una delle poche cose che si poteva fare realmente per cercare di rilassare un po' questo fenomeno, che chiaramente non lo potrai mai togliere del tutto, ma chiaramente è un bel taglio questo, un bel taglio e quindi secondo me è stato giusto che sia così, perché a parte gli interventi elicottero, a parte il costo dell'elicottero, a parte i costi per le cure delle persone, eccetera eccetera, ci voleva, un segnale ci voleva e questo è stato il segnale. Tra l'altro è stato il bel regalo di Natale che nessuno si aspettava direttamente, ma c'è nell'aria che qualcosa doveva succedere, perché troppe, troppe, troppe ne sono successe nel 2023 e qualcosa si doveva pur fare e quindi alla fine dei conti io per una volta sono d'accordo con i paletti, cioè quando si mettono dei paletti sono d'accordo per mettere i paletti, perché era diventato veramente una cosa assurda, aveva rasentato la follia e c'era bisogno di metterci un paletto, anche se molti amici che seguiranno questo video qua mi diranno che magari sbaglio a dire così, ma alla fine è stato meglio così, perché credetemi, se si continuava con quell'andazzo lì, prima o poi c'era qualcosa di irreparabile ed è andata bene, fidatevi, è andata bene molto molto così e quindi ragazzi per una volta sono d'accordo con chi ha cercato di tarparci un po' le ali, lo dico con rammarico, ma era una delle opzioni da poter fare, se l'han fatto è perché lo potevano fare per legge e quindi è stato giusto così. Io comunque continuo ad andare sul bracco, certo non mi ferma il fatto che avevano messo un guardarepocella, non smetterò di andarci, però chiaramente qualcosa si doveva pur fare, cioè era diventato un... parto da casa e ci arrivo a casa, cioè riuscirò a tornare a casa, questo è stato quello che stava succedendo. Ragazzi con questo chiudo il video e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao ciao!